Chi è? Chi è? Eh, qui è... Quanti ballo? Eh, bui, ecco, questi mioli... Giuseppe! Eh, comunque... Ma che spazio sui simioli? Comunque, senti un attimo, una cosa... Mol schifo sui simioli! Ti chiedo di una cosa importantissima... Sì, stiamo, che... Eh, non tiene manca nurenda muu... Eh, spazio... Non tiene manca nurenda muu... Salud! Eh, comunque, parla... Tu non hai capito niente del vero del senso della vita, capito? Ah, e qual è il senso della vita? Il senso della vita è che io e c'è la città sui scandinavi! Ma perché? Ma che vuoi fare? Perché se io riesco a andare in questo scandinavo, saludio... Non hai capito niente della vita... Sì, scugnare! Non riesci a capire? Sì, sì... Io faccio la bustina con lui! Ma in che maniera? Il rapine, che vuoi fare il rapine? Il rapine? No, no... Opre, faccio una cosa a livello sempre televisiva! Ah, sì... Perché voi la televisione non la sapete qua! Noi, io... Molestamente! Io ho fatto la cucina, non la sapete qua, insomma? Non lo sapete qua niente, io te... Non lo sapete qua niente da questa cosa! Voglio dire a me! Che molesta penso io e entro a bacio dello scandinavo! Sì... Quando ne vengono a bacio, ma organizzo una dismissione televisiva! Sì... Che la gente proprio... Sì... Sì, 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 sì... Sì, 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 sì... Eh... La gente... Ma che è successo? E che sarebbe? Sarebbe! Sì... Una grande dismissione! Sì... Ci sta un certo Gigi... Gigi, no? Che fatica a pomigliano tanto! Ah... Poi c'è un certo Gigi... Sì... Che fatica a pomigliano tanto! Puissima! Questi due Gigi e Gigi ne faticano nello stesso azienda! Mamma mia! Sampatino Gigi ne vengono i trami! Eh... Alle sette! Eh... E Gigi ne vengono i trami! Alle sette e cinque! Sette e cinque! Io cazzino! Gigi e Gigi e Gigi ne vengono i trami! Un secondo domani! Questi due Gigi e Gigi ne vengono i trami! Un secondo domani! E allora io le faccio! Grande trasmissione! Sentiamo! Grande trasmissione! Non potranno! I scendi non potranno! Eh... E l'altro domani! Eh... O dammi soffermi! Oh! Il sette e cinque! Alla monselle! O dammi le sette! Le sette e cinque! Sì! Non va a dobbaccio! Da mutate! Ah! Eh! Ma che... No, no, no! Semi Gigi non potranno! Alla gente! Eh... E la cinuzza! E va a... Gigi no! Eh... Gigi no! Gigi no! È qui! Ma... Ma... E la ragazza di un piano! Eh... E questa trasmissione è nuova! Tu l'hai pensata? Non l'hai mai pensata nessuno! Senti, ma come si chiama? Wow! Che sorpresa! Come come? Wow! Che sorpresa! Wow! Che sorpresa! Così si chiama? Wow! È veridio! Guarda! Peccato che... Per un pelo! Un'altra si chiama... Caramba! Che sorpresa! Chi è? Ma non c'è se... 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 Bibi! C'è una cosa a macchia! Zolò! Bibi, vedi che tu sei privo di te originale! Come fai a venire giù al scandinato? Allora, viaggio inizio, è più bravo di te! Fratello Cucina è più bravo di te! Ma perché? Che sei originale! Ma quando... Ma... Ma... Cusci a Raffaella Carrara, tu scusa! La conosci? Ma è schifo, è quello che... La conosci? La conosci? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vedi, capillo, pio, non mi necca! Bibi, non mi sticare! Bibi! Bibi! Non mi sticare!